Nel video precedente abbiamo visto come vengono aggiunte in automatico vicino alla timeline quattro tracce predefinite, ma naturalmente ne potremo aggiungere quante ne vogliamo. Quando sono parecchie diventa un problema anche vederle tutte insieme, potete eventualmente regolare anche l'altezza di ciascuna, fino a un minimo, oppure il contrario, e quando tutte non potranno essere visibili appariranno qua sulla destra le classiche barre di scorrimento. Molto pratico anche questo controllo tra il bottone più e il bottone meno, che permette di regolare tutti insieme le altezze delle piste, così. Potreste anche selezionare direttamente le piste in un gruppo, sto tenendo premuto il tasto shift maiuscole e usando la freccetta verso l'alto. E poi, variando l'altezza di una, in realtà lo faremo per tutte. Pratico. La distinzione in traccia, testo o video in realtà non è così stretta, tant'è che il simbolino che si nota qui è lo stesso della pellicola che si nota qua. Infatti io potrei sia manualmente trascinare la clip qui, ci sta chiedendo se vogliamo che il progetto assuma le proprietà, come risoluzione del video ad esempio, della clip trascinata. No, perché la clip è a full HD e invece stiamo producendo per YouTube a 1280, quindi rispondo no. In questo modo la parte video è appunto in corrispondenza della traccia numero 2 e l'audio qua sotto. Ma se annullo con CTRL Z l'operazione, doppio clic sulla clip per raggiungerla in automatico, vedete che la parte video è finita qua e potrei poi comunque spostarla. Tengo premuto con la manina, dico no, metti qui. E viceversa. Per motivo di ordine logico si può comunque tenere separate le cose, certamente non si sbaglia. Io spesso, anche per scegliere e scartare alcune clip che non mi piacciono, procedo proprio così, una per volta. Inserite la prima, aggiungo la seconda e così via. Ma non si è ovviamente costretti a procedere in questo modo. Se preferite, potete selezionare una o più clip, anche tutte, per poi aggiungerle. Ecco qui. Ne abbiamo aggiunte tutte. E guardate qua sotto. Sta creando quei filettini di cui abbiamo discusso prima. E come conferma, vi mostro la cartella. Vi consiglio di salvare spesso perché è piuttosto stabile, ma non perfetto, almeno sulla mia piattaforma. Basta un CTRL S e vi assicurate la possibilità di ripartire almeno da lì. Da subito si presenta questo problema, cioè di eliminare questa parte o di spostare tutte le clip verso sinistra. L'editor funziona di default in una modalità calamita, diciamo, che fa gestire in tante operazioni l'intero gruppo del clip come se fosse una sola. Cioè, se vado su questa clip, attenzione, il simbolo che deve apparire deve essere quello della manina, aperta, cliccate ovviamente e poi trascinate verso sinistra. E trascinerete tutte le clip. Però voi direte, cavolo! E quando mi interessa invece trascinare solo la prima, per fare spazio tra la prima e la seconda, come si fa? È semplice. Ricordatevi la combinazione CTRL L, CTRL L. Lo premiamo adesso, CTRL L, disabilito la gestione calamitata, diciamo così, e lo spostamento ora andrà a interessare soltanto questa clip e non è alta. CTRL L e andrei a ripristinare la modalità precedente, e quindi un interruttore. E se CTRL L è certamente molto comodo e molto pratico, nel caso non doveste ricordare qual è la combinazione, andate a curiosare qua sotto Config, è l'Auto Ripple. Provo ora con CTRL L. E vedete che è sparita la spunta vicino ad Auto Ripple. Auto Ripple che funziona in entrambe le direzioni, quindi trascinando verso destra la prima clip, e sposto anche tutte quelle che seguono. Ed è giusto anche sottolineare come le clip che sono calamitate sono sempre solo quelle alla destra di quella con cui state lavorando. Quindi sposto questa e sposto quelle che sono alla sua destra in entrambe le direzioni. Ma se vado a lavorare con questa clip, soltanto questa verrà calamitate insieme a questa. E se ci si sposta verso sinistra, otterremo una sovrapposizione. Notate come ci sia anche un simbolismo grafico per evidenziare l'area interessata dalla sovrapposizione. Il calamitaggio consente anche di trascinare con sé le clip sulla destra in operazioni un po' più drastiche, spostamento. Faccio clic, tengo premuto, mi sposto e porto proprio tutto il blocco davanti alla prima. Per certe operazioni, quando le clip sono davvero tante sulla timeline, sembrerebbe impossibile, o comunque molto scomodo, operare su tutte in contemporanea. In questi casi, ricordatevi che c'è sempre la possibilità di zoomare usando la barra di scorrimento. Andate infatti in corrispondenza della parte terminale qua a destra, o qua a sinistra, se preferite. Se clicco e poi allargo la barra di scorrimento, vedete che sto zoomando fino a che potrò vedere proprio tutte le clip insieme. Viceversa, per andare in dettaglio una certa zona, vi spostate prima rapidamente, non so, qui. Dovete lavorare di fino su questo blocco, su questa clip, fate il contrario. Adesso non si vede, la inquadro così. Stringo e vado a zoomare. Spostate un pochino. Ecco che siamo in dettaglio su questa clip. E non è l'unico modo per ottenere questi zoom. Guardate qua, sulla destra, avete questo bottoncino, zoom in, time, zoom out, time. Ve lo leggo perché non si vede probabilmente nel quadro di registrazione. Vabbè, fanno quello che potete immaginare. Zoom in, andiamo in dettaglio, e zoom out, ci allontaniamo dalla timeline. Qui in mezzo, potete, c'è questo zoom tool. Cliccate, apparirà andando sulla timeline questa lente ingrandimento. Cliccate, tenete premuto ed evidenziate l'area che deve diventare quella zoomata, quella sulla quale volete lavorare in dettaglio. Voilà. Infine, c'è un altro modo per zoomare. Semplicemente usare freccia su, freccia giù. Guardate. Zoom in, usando freccia su. Zoom out, usando la freccettina verso il basso. Una volta zoomato con il giusto dettaglio nella zona di interesse, potrebbe essere poi necessario spostarsi sulla timeline in modo più o meno fine. Quando non vi serve una particolare precisione, potete sempre spostare questo controllo sulla timeline. A volte però è necessario spostarsi di un frame a destra a sinistra o di un multiplo. Usando le freccette destra a sinistra, vi sposterete in quella direzione di 5 frame per volta. Lo faccio ora, premo il tasto freccia destra. 5 frame a destra. Torno indietro, 5 frame a sinistra. E tenendo premuto l'alt, vi sposterete invece a destra o a sinistra di un solo frame per volta. Lo tengo premuto ora, destra, un frame, un altro frame e così via. Ma c'è anche la possibilità di andare a un momento esatto, utilizzando la combinazione CTRL G, dove G sta per Go, CTRL G. E potrete scrivere qua l'esatto minuto, secondo e frazione di secondo. Comunque, e siamo in chiusura di video. Non è che dobbiate ricordarvi per forza a memoria tutte queste combinazioni, giusto? Basta andare qua sotto Edit, Navigate e qui troverete tutto. Go to Time, CTRL G, spostamento all'inizio del progetto, all'inizio del progetto. Ecco, questo è particolare perché richiede che prima venga fatta una selezione. Quindi, Selection, Home e Hand. Allora, poi ne riparliamo di selezioni. Faccio una selezione da qui a qui, diciamo, questa è una selezione. Premendo quindi Home, andiamo all'inizio della selezione. Premendo Fine, End, andiamo alla fine della selezione. La timeline è anche etichettata con delle tacche a distanze fisse, un po' come dei punti d'abulazione, che sono poi dipendenti dallo zoom. Per cui, se sono su uno zoom alto, spostarsi da un marker, sono chiamate così queste tacche sulla timeline, usando pagina giù, significherà spostarsi, in questo caso, vedete, di 5 centesimi di secondo. Ora torno su, pagina su, e torno indietro di 5 centesimi di secondo. Ma se vario il livello di zoom, adesso, ma muoversi a quella tacca, corrisponderà a percorrere un lasso di tempo molto maggiore. Provo ora con pagina giù, e mi sono spostato di 15 secondi. La comodità è che quella quantità rimane fissa finché non cambio il livello di zoom. Quindi ogni volta che premo pagina giù, mi sposterò di 15 secondi. E viceversa, tornando indietro. E siamo arrivati alla fine della lezione. A risentirci.